4, 3, 2, 1, e cambio verso l'interno, 4, 3, 2, 1, e cambio braccio, quindi verso l'interno, 4, 3, 2, 1, e cambio 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 verso l'interno, 5, 3, 2, 1, e cambio verso l'interno, 5, 3, 2, 1, e cambio verso l'interno, 5, 2, 1, e cambio verso l'interno, 5, 1, e cambio verso l'interno, 5, 3, 2, 1, e Periodo quindi 5, 1, e cambio verso l'interno, 6, 3, 2, 1, 2, 1, e cambio verso l'interno, 6, 3, 1, e cambio dopo Joey, Grazie a tutti